E' una pistola salve di quelle che fanno solo il botto per intenderci comunemente dette scacciacani, l'arma di tipo automatica ritrovata questa mattina attorno alle 10 dai tecnici di Enel Green Power durante le operazioni nel canale Albani per i lavori di pulizia e riqualificazione del tratto cittadino dello stesso. Appena il livello dell'acqua è stato di pochi centimetri, sotto gli occhi sbigottiti dei tecnici dell'Enel e dell'ufficio ambiente del comune di Fano, a pochi metri dal Ponte Rosso in via 4 Novembre è apparsa la poco rassicurante sagoma dell'arma. Immediatamente sono state avvertite le forze dell'ordine e l'assessore Mascarin arrivato anche egli sul posto poco dopo. I carabinieri della compagnia di Fano sono rapidamente intervenuti arrivando ai passeggi con una unità radiomobile ed hanno preso in carico l'arma e portata in caserma per effettuare le opportune verifiche che hanno così consentito di appurare che l'arma gettata nel canale da ignoti altro non è che una innocua scacciacani di libera vendita e che utilizza cartucce a salve. I lavori che sono iniziati questa mattina con l'abbassamento del livello dell'acqua nel canale dureranno 4 settimane e rientrano nel protocollo siglato tra Comune di Fano ed Enel Green Power per la manutenzione ordinaria e programmata del canale. Sì, dei lavori importanti per circa 70 mila euro finanziati da Enel Green Power in base al protocollo sottoscritto l'anno scorso con il Comune di Fano. Partiranno anche dei lavori di riqualificazione dell'alveo che prevederanno anche l'abbattimento di alcuni alberi che hanno dei rischi rispetto alla stabilità e dall'altra verranno fatti dei lavori di manutenzione, ripristino e rafforzamento degli argini in particolare nella zona di Viale Kennedy. Questo complessivamente quindi sarà un intervento molto importante e il più importante negli ultimi 10-20 anni sostanzialmente nella città con un investimento molto importante da parte di Enel Green Power e lo ricordiamo con un monitoraggio attento ogni giorno del Comune di Fano infatti come Ufficio Ecologia Urbana noi già da questa mattina abbiamo iniziato il sopralluogo e continueremo tutti i giorni per tutta la durata dei lavori. Oltre alla pistola a salve è affiorata dai fanghi anche la sagoma di una bicicletta per il resto rami e sedimenti naturali. Ben altra cosa rispetto a quanto fu trovata durante la secca di due anni fa che oltre alla moria di pesci e anatedi mostrò tutto quello che c'era sul letto del canale. elettrodomestici, biciclette, pezzi di motorini, svariati copertoni di auto e oggetti di varia natura e materiale. Con il protocollo invece l'obiettivo è quello ogni anno di poter intervenire per garantire una qualità dell'acqua che arriva poi peraltro al porto ovviamente diversa e soprattutto per far sì che gli spazi del canale Albani non siano il ricettacolo di rifiuti abbandonati e soprattutto non siano in qualche modo il condensato dell'inciviltà di diversi cittadini.